I conti esatti dei costi della sanità veneta rimangono incerti, ma la seduta straordinaria del Consiglio regionale, richiesta dalle opposizioni per fare luce, come ha ribadito in aula la capogruppo del PD, Laura Puppato, sul presunto buco finanziario, ha prodotto una certezza. Il sistema va ripensato e riorganizzato perché per il futuro ci saranno sempre meno soldi. Ampio il dibattito, apprezzato anche dal presidente Luca Zaia, che ha sottolineato come il tema debba essere trasversale alla politica e impegnare in termini costruttivi maggioranza e opposizione. Sull'allarme deficit, che ha mobilitato i consiglieri del centro-sinistra, l'assessore alla sanità Coletto rassicura. La sanità del Veneto sta bene, ci sono dei debiti verso fornitori nelle varie ASL, stiamo facendo tutte quante le verifiche, di conseguenza è tutto assolutamente sotto controllo. Niente allarmismi anche per il presidente della Commissione Sanità, Leonardo Padrin, che invita però a guardare al futuro. Le condizioni sono le medesime degli anni precedenti, quindi nessun buco scelte da fare, quelle sì, importanti e da fare subito. Gli esponenti dell'opposizione contestano il balletto delle cifre e le rassicurazioni della Giunta, ma concordano sulla necessità di riorganizzare il sistema. Io penso che bisogna sicuramente eliminare gli sprechi che ci sono, bisogna fare in modo che i cittadini abbiano una sanità veloce. Ci sono liste d'attesa troppo lunghe. Un'inversione di rotta sulle scelte ospedaliere è la proposta di Raffaele Grazia, Udc, che individua due priorità. Chiudere alcune strutture ospedaliere in alcune realtà provinciali dove non si è provveduto a una razionalizzazione. Dall'altra parte la revisione di un sistema di utilizzo delle risorse attraverso il project financing perché questo elemento sta depauperando le risorse da investire a favore della tutela della salute. Attenzione però alla qualità dei servizi e a non separare la sanità dal sociale, avverte la capogruppo del PD, Laura Puppato. A nessuno viene in mente capire che livello di qualità la sanità e il sociale del Veneto vogliono dare nel futuro. Se io non riesco ad interpretare correttamente quello che mi serve, sapere quanto mi costa o quanto mi può costare partendo dal prezzo mi pare la cosa più sbagliata.